Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui, sembra per di nada perché ho i capelli leggermente arrabbiati. Allora, oggi siamo qui a parlare di una cosa che ci tengo particolarmente di parlare con voi. Ma prima di cominciare il nostro video voglio, come sempre, rinnovare il mio ringraziamento a tutti voi. Tutti, chi mi vuole bene, chi mi vuole male, chi si iscrive, chi non si iscrive, chi si cancella. Tutti, tutti indistintamente. Perché in qualche modo avete contribuito tutti a far sì che oggi sono qua e che il mio canale sta crescendo. Perché lo vedete, io non lo nascondo. Si vede che il mio canale cresce. Io non nascondo il su, il giù, i numeri di crescita, i numeri di visualizzazione. Tutto deve essere all'occhio di tutti. Perché questa sono io, la mia, come se dice, limpidezza. E di questo dovete capire che le persone che non hanno niente da nascondere sono le persone sincere. Chiusa parentesi. Grazie, grazie a tutti. È il rosetto che sto indossando. È il rosetto orchide. Si chiama, sì, orchide, di Clio Makeup. Bellissimo per questo periodo, per tutto l'anno, ma per questo periodo di più perché è un colore molto, 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 molto bello. Allora, di cosa parliamo in questo video, che ci tengo particolarmente? Come avete letto dal titolo, parliamo di una chicca che ho trovato su un sito di, su Instagram. Cercavo qualche mese fa, che eravamo qui a casa, cercavo dei, le persone che lavorassero a mano. Quindi un po', io ho iniziato perché cercavo delle tende, delle cose fatte particolari, così. E poi dopo sono andata un po' a dilagarmi, a guardare un po' la vigioteria e questo e quell'altro. Ho trovato, ad essere sincera, tre siti che mi interessavano particolarmente. De vigioteria fatta a mano, fatta delle persone, le mani delle persone competente, brave, capace, molto professionale, molto brava, molto, come si può dire, d'oro, con le mani d'oro. Vigioteria bella, originale, particolare, con dei prodotti belli, eccetera, eccetera, eccetera. Come ho già detto, ho intoppato con tre persone, con queste qualità che cercavo io. Ma quella che mi ha colpito in particolare è stata una, prima di tutto perché fra le tre era il prezzo più accessibile, secondo me, per l'oggetto che si stava comprando. Perché per bello che siano, per fatti bene come sono, perché si meritano tutto l'oro di questo mondo, perché sono veramente unici, però quegli altri due mi sembrava molto eccessivi. No, non è che stavo comprando un paio di orecchini d'oro o d'argento, stavo comprando della bella vigioteria, però stavo comprando vigioteria. E quindi, anche se questi oggetti fatti a mani, originale, particolare, unici, non hanno prezzo, ma a me non mi andavo a dispendere quelle cifre che mi chiedevano gli altri. Ho scelto lei e ho fatto bene a farlo, perché sono dei prodotti che, quando mi sono arrivati, visti dal vivo, sono più belli di quello che avevo visto nelle foto. E, in sostanza, le foto non rendevano giustizie. Sono dei prodotti bellissimi, bellissimi, bellissimi. Allora, dopo lascerò tutto giù sul link, il nome di questa persona, dove la trovate, su Instagram, il link di tutto. Lascerò tutto perché vi conviene andare a dare un'occhiata, perché lei è molto brava, molto carina. Potete fare qualunque domanda volete. È stupenda. Anzi, dirò anche di più. Lei mi ha chiesto se io, quando avevo ordinato, se avevo visto altri canali di altre ragazze, e mi ha detto il nome di due. Una non seguo da tempo e quell'altra, grazie a lei, ho cominciato a seguirla per vedere, per curiosare, vedere che aveva presso, capito? E quindi sono felice di questo. Veniva tutto molto confessionato in questa scatola. Così. Vedete tutto. Carta. Ogni orecchini, perché io ho ordinato gli orecchini. Veniva in sacchettini, con il pluripol. Allora ve lo faccio vedere. Con il pluripol. Tutto perché non si rompesse. È molto impacchettato. Ogni oggetto veniva dentro questi sacchettini. Vedete la bellezza e la precisione di questa ragazza. Veramente molto carini. Io, senz'altro, da quando ho acquistato questi oggetti, le ho detto a lei che io sono ufficialmente diventata una sua cliente. Non l'abandonerò mai. Perché io adoro, adoro, adoro per tutti i giorni gli orecchini. Mi avete visto in tutte le salse. Io adoro gli orecchini vicino all'orecchio. Perché con i capelli lunghi, con il lavoro che faccio, gli orecchini lunghi, così impegnativi, diventano un problema per me e per chi mi sta intorno. E allora preferisco gli orecchini vicino all'orecchio. Ma quando sono per i cavoli miei o ricambiata o a giro, amo gli orecchini grandi. Perché avendo i capelli lunghi, adoro gli orecchini grandi. E quindi le ha, ve le metto così, così le guardate bene. E uno di questi orecchini sono questi. Non lo so, si rende l'idea della bellezza di questi orecchini. Vedete? Sono, guardate dietro, sono bellissimi. Belli, belli, belli. Io, che dire, ho scelto gli orecchini perché sono tra i miei oggetti preferiti, braccialetti. Ce n'ho anche troppo, di anelli ce n'ho neanche, stiamo qui a parlare. E quindi con lana più o meno sempre le solite, quindi non è, non, sono belle, però preferisco l'orecchini. Via. E sicuramente ne comprerò altri perché, anche per fare un regalo, fai un regalo unico, originale, perché ogni pezzo è a sé e quindi questo è il bello di questa, di questa, questo prodotto, che ogni prodotto che acquistate è un prodotto a sé. Tanto è vero che io ne avevo visto altri orecchini e non ne aveva più, perché lei ne fa uno di ogni tipo, non ne aveva più di quell'oggetto lì e niente, per far capire a voi che quello che avete voi, lo avete solo voi. Mi ha regalato questo braccialetto perché lei, in ogni ordine, credo che facci a tutti, penso, non credo che sia fatto solo a me, un pensiero e a me ha regalato questo braccialetto che mi piace moltissimo per l'estate, tutto colorato così. E andiamo a vedere queste meraviglie di orecchini. Allora, è il mio preferito in assoluto, in assoluto, che aveva già finito, venduto, ma ha cercato in maniera diversa, non uguale a quegli altri, ha cercato di riprodurle un'altra volta perché sapeva che era tra i miei preferiti, sono questi. Vedete la bellezza di questi orecchini? Li adoro, li adoro, li adoro. Sono tutti con piedre dure e mi piacciono moltissimo. Questi sono i miei preferiti e, come ho detto, lei non ce l'aveva più e in qualche modo ha cercato di rifarli, cambiando dei particolari perché non fossero uguali a quegli altri e farmeli e accontentarmi. Aspettate che lo voglio far vedere tutti e due. Vi invito a dare un'occhiata su questo sito su YouTube perché veramente è spettacolare. Il terzo pagio è questo qua, che anche questo è meraviglioso. Non lo so se vi rendete conto che non so perché mi è venuto tutto da prenderle tutti, celeste, turchese. Non so perché l'estate mi ispira a questi colori, ma potevo prenderle rossa, gialli, verdolini, bianchi, neri. Invece mi è venuto automaticamente di prenderle tutti di questo colore. Non lo so perché. Ci prestano molto bene con tutto, penso, d'estate. Poi quegli altri sono questi. Guardate anche voi che sono tutti più o meno sulle tonalità dell'assurro, del turchese. Non so perché. Questi bellissimi con la frutta, con una specie di, come si chiama, di mosaico. E tutti i colori che riprendano sono veramente spettacolari. Mi piacciono moltissimo. E poi per finire questi qua, che adoro, adoro anche questi, con questa foglia arancione. Ne comprerò altri senz'altro e questo è tutto il mio ordine. Ne comprerò altri senz'altro. Tutti i miei orecchini e loro, fondamentalmente loro, che sono quelli più lavorati. Veramente, veramente una chicca, una chicca. Invito a tutti, anche almeno solo per guardare, di andare a vedere questo sito, su questo specie di sito, sì, su YouTube. Su Instagram, scusate. Su Instagram, perché lei è veramente, veramente, veramente brava. C'ha le mani d'oro. Spettacolare. Quindi, io vi lascio e, come sempre, mi mando, se volete, se avete voglia di continuare a seguirmi, al prossimo video. Un bacio a tutti e buona domenica. Ciao!